In fotogramma 3 la corrente sta diminuendo il senso anti-orario Questo vuol dire che questo campo magnetico qui è ancora con il nord qua e il sud qua ma è un campo magnetico meno intenso Poi arriva il fotogramma 4 non c'è più corrente vedete che la corrente non c'è questo segno vuol dire che la corrente sta girando il senso anti-orario questo vuol dire che la corrente è più importante anti-orario, anti-orario, anti-orario medio, grande, medio, zero qua la corrente sta di nuovo cominciando a riapparire ma gira in senso opposto convincetevi che adesso gira in senso orario lo vedete sia dalla sinusoide che da come si stanno comportando le cariche sulle fiastre oppure come si sta comportando la corrente di spostamento quindi io vi chiederò di giustificarvi il verso della freccia sia in termini della corrente di conduzione che è banale sia in termini della corrente di spostamento che è invece meno banale ovviamente deve dare la stessa risposta quindi avrete risposto la domanda in maniera corretta se va la stessa risposta con la corrente di conduzione quindi qua la corrente è al massimo valore in senso orario quindi avete un campo magnetico più intenso dentro il solenoide ma com'è messo il gramerio? adesso il nord è qua, adesso il nord è di là è cambiato la polarità diciamo di questo magnete che è un elettromagnete è un esempio di un elettromagnete c'è un magnete che non c'è c'è solo se c'è corrente che circola nel solenoide con la corrente che circola questo è un elettromagnete è un elettrocalamita forse la parola elettromagnete mi piace solo questa polarità dell'elettromagnete sta cambiando a seconda che la corrente giri il senso antiorario o l'orario io adesso io vado a prendermi un tè disegnatela bene, se ci sono delle domande quando torno mi fate domande e poi io cancello meditate su questo disegno è una sciockezzuola però c'è tanta fisica qua ma tanta 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 questo esercizio tira in ballo un sacco di fisica la conservazione dell'energia ci sono due forme di energia qua uno elettrico e uno magnetico e c'è un gioco di travaso, vedete? inizialmente c'è solo energia elettrica poi l'energia elettrica diminuisce e sta crescendo quella magnetica che inizialmente non c'è poi a un certo momento quella magnetica dov'è? quella magnetica assume valore maggiore e non c'è più quella elettrica poi quella magnetica diminuisce e cresce con l'elettrica a un certo momento quella magnetica sparisce e c'è solo energia elettrica poi l'energia magnetica riappare e diminuisce quella elettrica non vi sembra familiare questo? nell'esempio della molla di una massa attaccata alla molla avete due tipi di energia nel caso meccanico avete energia di movimento e di posizione se inizialmente avete energia di posizione non avete energia di movimento poi cambiando la posizione diminuisce l'energia di posizione e aumenta l'energia di movimento poi l'energia di posizione arriva al valore più piccolo, 0 se scelgo la costante integrazione uguale a 0 e ho il valore più grande energia di movimento e poi l'energia di movimento diminuisce e comincia a ricrescere con la posizione l'energia di posizione aumenta al massimo l'energia di movimento non c'è più e infinitamente c'è un ciclo di travaso di energia da una forma all'altra qua non c'è un'energia di movimento nel senso cinetico del termine e non c'è un'energia di posizione nel senso di molla compressa ma c'è un'energia di tipo magnetico e un'energia di tipo elettrico c'è un'energia del campo elettrico e c'è un'energia del campo magnetico per il fatto che esistano c'è un'energia e i loro passaggi passare di energia da una forma all'altra mi fa una, oddio c'è una parola in inglese che io adoro ma non c'è in italiano mi pare MIMIC MIMIC vuol dire EMULA IMITA è l'analogo questo MIMICS o uno potrebbe anche dire il contrario che una massa attaccata a una molla emula il comportamento di un circuito infatti tanti anni fa prima dell'invenzione del calcolatore digitale i meccanici come facevano a studiare il comportamento di un complicato meccanismo di molle e di ammortizzatori e di masse cosa facevano? costruivano un circuito i meccanici una volta dovevano conoscere l'elettronica perchè per anticipare il comportamento di una cosa meccanica costruivano un circuito che emulava il comportamento dell'oggetto meccanico quindi il comportamento di una massa attaccata a molla lo potete emulare, imitare con un opportuno circuito una volta i meccanici dovevano sapere questo adesso no, si fa tutto digitale e si chiamavano calcolatori analogici adesso vado a farmi il tecnico disegnate e torno subito quando torno? uno potrebbe dire per una volta di un'allegrazione un'allegrazione quindi qui Grazie. 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 C'è qualcuno che sta ancora copiando? Sì. E' un paio di mesi che sto facendo pratica per imparare il rischiato, non è la velocità giusta, adesso è ancora più veloce. Come vi ho già detto prima o poi prima di tirare le quali voglio fare qualche YouTube, whisky e fischia. C'è qualcuno che non ha capito? Chi ha fatto queste cose nelle scuole superiori? Così? Alla scuola superiore le avevate capite questa cosa? Come lo faccio io? Si capisce di più o di meno o uguale? Chi non ha mai fatto queste cose? Anzi, alzate bene la mano. Quindi c'è una metà delle presposte, forse più della metà. Non avete mai visto queste cose. Mai. ovviamente ovviamente ecco, come vi ho già detto, se r è uguale a 0, allora questa roba si conserva. tante volte come ho appena scritto, poteva anche essere scritta così, allora l'analogia con la meccanica diventava facile, come vi ho già fatto questa specie di tabellina di conversione, che una volta i meccanici dovevano sapere, e devono sapere anche per il mio corso, che se voi fate l'associazione che l'indutanza la pensate come una massa. se pensate alla carica come la posizione, quindi ovviamente la corrente e la velocità, quindi la corrente che è la derivata della carica rispetto al tempo la pensate come la velocità, poi avete la inutanza che la pensate come una massa, la resistenza, avete 1 su c, attenzione, che è uguale, e che la pensate come la costante elastica, e la resistenza la pensate come il coefficiente del tito viscoso, viene fuori che questo è... è tale, stessa matematica, è la stessa matematica, in particolare avete la stessa matematica, se io, per esempio, fa un induttore, una capacità, suponente di avere pure la resistenza, anzi, diciamolo senza resistenza per il momento, e qua, invece di mettere una batteria, metterlo con un generatore di onde sinusoidali, in cui qua c'ho una tensione, una forza etnotrice variabile del tempo, e per esempio, imposto una così, per esempio, in cui qua applicata con una forza, applicata, applicata, con una forza etnotica, ovviamente, ovviamente, avrete la risonanza, quando, la pulsazione di forzate, è proprio uguale a quella naturale, è uguale a k su m, forse avevo fatto un errore prima, c'era un errore prima, negli appunti di prima, mi sembrava che ci fosse un errore, no, no, era giusto, era l'omega 0 al quadro 1, era t, che era il periodo che era 2 pi greco radice di n c, mentre si aveva scritto, mi sembrava che aveva scritto, invece aveva scritto t, con la solita tabellina, no? e la m diventa la l, e 1 su k diventa la c, stessa matematica, ovviamente se c'è la resistenza, questo diventa un, mettete il fluido, e qua mettete la resistenza, avete sempre risonanza a questa frequenza, solo che l'ampiezza, invece di divergere, esplodere, è addomesticata dalla presenza di una forza dissipativa, e qui è appunto il fluido discorso, e qua è addomesticata, l'ampiezza è addomesticata, invece diverge, perché c'è un fenomeno dissipativo, che è l'effetto joule, no? che c'è una potenza, che è, che è r i quadro, questa è la potenza dissipata, dalla resistenza, quindi nel vostro travaso di disegno di prima, sarebbe stato un disegno troppo complicato a fare, c'era una resistenza che si scaldava sempre più, quindi se questa è la vostra resistenza, non so, 10 kg o qualcosa del genere, voi potete mettere qua le vostre mani a scaldarvi, giusto? scaldabagno, d'accordo? e ovviamente dovete pagare la voletta elettrica, perché se volete continuare a far oscillare il vostro circuito, e la resistenza continua a dissipare l'energia, l'unico modo per far oscillare il vostro circuito, e pompare altra energia, a rimpiazzare quella che si mangia la resistenza, che si mangia il fluido, e la dovete pagare l'energia, d'accordo? perché se voi caricate il condensatore inizialmente, e poi chiudete l'interruttore, l'energia se ne va a convertirsi in energia termica, e dopo un po' non avete più energia, quindi avete un comportamento, domanda, domanda, e forse l'ho fatto l'altro giorno, qual è il discrimine? quindi questo è L, ho chiesto di Henry, era americano, non francese, questo è una capacità, non farad, ma farad, perché è inglese, e questo è la resistenza in onda, lui è tedesco, è l'effetto Joule, non Joule, perché era inglese di tante generazioni, e perché io, essendo un anglosasson, sono fiero del fatto che Wellington ha vinto a Waterloo, e non il contrario. Mettiamo per l'appunto che ci sia l'interruttore con le solite cariche, non mi ricordo se l'ho fatto, quindi se l'ho fatto fermatevi subito, qual'è la condizione, affinché ci sono due tipi di comportamenti che potete avere, per esempio la carica sul condensatore, la carica sulla piastra superiore, potrebbe fare così, dal valore iniziale Q0, potrebbe, o al massimo fare, oppure un comportamento di questo tipo, di questo tipo, c'è una retta, ma non voglio che speziate che sia una retta, questo è un andamento esponenziale, questo è il suo speculare, perché mi guiderà nel disegno, questo discorso l'abbiamo fatto, ma non mi ricordo se l'ho fatto per il circuito, l'abbiamo fatto per la massa, quindi lui ha questo valore, fa un'oscillazione sforzata, questo è un caso, questo è un secondo caso, come si passa da l'uno all'altro, qual'è il discrimine? Nel caso della molla, lo sapevate cos'era, vi ricordate, avevate dato una quadratica, perché si cercavano le soluzioni dell'equazione algebrica, associata all'equazione differenziale, e c'era il discriminante, vi ricordate qual'era il discriminante? C'era una radice quadrata, che avevate, vediamo se non ricordo, era forse questo? Se l'argomento del discriminante è positiva, serve in questo regime, se l'argomento della radice quadrata è negativa, serve in questa circostanza, allora come si traduce questa condizione per la massa da 4 molla nel circuito? Papellino di conversione, fatelo! Fatelo! Ho fatto questo? L'ho scritto? Fatelo voi, adesso, coraggio! Fate la tabellina di conversione qua, a fatto che questo sia corretto, qualcuno può controllare, se no me lo devo ricavare, ricaviamolo? Può qualcuno ricordarselo? Ah beh, ricaviamolo, ho fatto prima, siete così lenti, anche a cercare degli appunti, qualcuno me lo può confermare prima che io lo faccia? È corretto? Sì o no? Signorina, mi aiuti lei, lei con i capelli rossi finti, mi dica, mi dica, è la formula giusta, cerchi nei suoi appunti, perché se lei studiasse, saprebbe dove cercarlo, se lei studiasse, o lo saprebbe, o saprebbe dove cercarlo, perché se uno studia, anche se non lo si ricorda di me, ah mi ricordo sì, è qua, lei studia? è corretta la formula? Eh, lo cerchi negli appunti? Ah no, non è quello il quaderno, lei diventerebbe un bravo avvocato. Beh, vedete con quale velocità lo fa quando? Fatto? Questa è l'equazione algebrica associata a quella Derivata al secondo metto un alfa quadro Derivata al primo metto un alfa Che diavolo è l'alfa? L'alfa è il famoso alfa che deve apparire qua, no? Nel famoso esponente E quindi ho una quadrata e ho due soluzioni E ho questo, meno b diviso m più o meno la radice quadrata di b quadro fratto m quadro Quindi ho 4k diviso m, giusto? E tutto diviso 2 Quindi porto il 2 dentro, quindi qua va qua Qua va qua e qua va via, ed è giusto 10 secondi Imparate a farlo con lo stesso risultato Soluzione di prova, equazione algebrica associata Questa è un'equazione differenziale Questa non è un'equazione differenziale Questa è un'equazione quadratica Che sapete dalla prima media probabilmente Se non dalla quarta elementare come è il mio link Quindi l'equazione diventa cosa? R quadro 4l quadro meno a1 su lc Radice, questa è la condizione nel gergo elettrico Quindi il circuito elettrico che emola l'oscillatore meccanico Cosa fa il circuito? Oscilla o muore? Pseudo oscilla è meglio dire O muore esponenzialmente Cosa fa? Dipende da questa roba qua Quindi se questa roba qua è maggiore di 0 Allora siete in questo comportamento La carica morirà o in maniera così O con un tentativo di andare e tornare Ma non riesce poi più a risuperare Quindi è una specie di morte esponenziale Se questa roba invece è negativa Avete i numeri complessi E quando avete i numeri complessi Vuol dire che l'alfa è un numero complesso E quindi l'alfa è complesso Quindi Il flow chart è questo Disgrim negativo Implica Alfa immaginario Anzi complesso E' immaginario Alfa immaginario quando? Quando R è uguale a 0 Se questo fosse uguale a 0 Allora avrei Alfa sarebbe immaginario Quindi faccio così Alfa complesso Elemento dei complessi Nota bene Alfa immaginario Che immagino si scrive che 2m Si scrive che 2m Se R è uguale a 0 Se invece R è diverso da 0 Alfa ha una parte reale Ok? E se Alfa è immaginario Ah che bello Avete Euler Euler Con Moltiplicato Per un esponente Decrescente 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 Un esponente reale Si intende E l'esponente reale decrescente Vale 1 Quando la resistenza è 0 Invece se la resistenza è diversa da 0 Avete un esponente negativo Che vi da origine a questo Quindi questa curva qui Questa curva qui Che guida Lo sponzamento C'è Quindi avete una E E alla Meno B Diviso 2mt Quindi nella misura Oppure traslata nel linguaggio Dei circuiti Che è caldo E E alla Meno R Diviso 2Lt Quindi nella misura in cui La resistenza è 0 Nella misura in cui La dissipazione D'energia è 0 Nel contesto Dei fluidi La viscosità Non c'è E nel contesto Dei circuiti Avete messo tutto A qualche grado Kelvin Sopra lo 0 E non avete quindi Il comportamento resistivo Ecco che L'esponente Diventa 0 E E alla 0 E alla 0 Vale 1 E quindi nel caso in cui La resistenza O la dissipazione Non c'è Non c'è sforzamento Perché la curva Rimane Oscilla Tra le due curve rosse D'accordo? Questa è la tabellina Riassuntiva Che vale sia Per gli oscillatori Che per i circuiti Che sono chiamati I circuiti oscillanti Il circuito LC È un circuito oscillante E il circuito RLC Sera forzato oscillare Oscillerà Se non lo forzate Morirà così O così Solo se l'ha forzato Oscillerà E se l'ha forzato Oscillare La frequenza proprio giusta Ci sarà E farò una risonanza Ok E dove sono? Sono molto belle queste cose Se io dico questo Cosa significa? Voi che ormai siete studenti Che lo chiederò Immaginate di avere un anello Questo è un anello Questo è un anello Con centro qui E questo è l'asse di simmetria dell'anello Asse dell'anello Ok? L'anello abbia raggio R E questo lo chiamiamo L'asse X X uguale a 0 Lo mettiamo uguale al centro X positivo di là X negativo di qua Va bene? Immaginate un punto X qua Un punto Ecco Questo è un punto Un punto matematico Ok? Voglio il potenziale elettrostatico In quel punto Se l'anello È una distribuzione Anulare Per esempio Appunto a forma di anello Di una certa quantità Di carica compressiva Q E immaginate che sia Distribuita in maniera omogenea Quindi La carica è spalmata Su questo anello Con una densità lineale Quantità di carica Per unità di lunghezza Lambda E che questo sia una costante Quindi Spalmate in maniera omogenea La carica su un anello Fino ad accumulare La carica complessiva Q Ok? Quindi Voglio il potenziale Ello stato In questo punto Voglio il campo elettrico In questo punto Immaginate che Questa carica Sia positiva Poi In questo punto Mettete una carica Negativa Ci sarà una forza di Lorentz Voglio sapere la forza Quindi Potenziale Nel punto P Questo è il punto P Punto P Sull'asse 3 Forza di Lorentz Direzione e modulo Quando La carica Q è negativa Quindi facciamo Si Facciamo che questo sia Che so Non potrei scrivere Invece di scrivere Q meno di zero Voglio specificare Che la carica sia Come potrei indicarlo Così Così la formula Applentiamola così Che la carica In meno Q Ok? Quindi io voglio questa forza qua Uguale a meno Q D'accordo? Che mettete una carica lì Che accarica Meno Q piccolo Q grande E' la carica dell'anello Q piccolo Con il suo segno Esplicitato In segno meno Così ve la portate dietro Quarto Se X è molto minore del raggio Che non è così In questo disegno Non vi pare? In questo disegno La posizione E' uguale al raggio Immaginate un punto Che è qua Molto vicino Per X molto minore Dimostrate che La particella Se è dotata Di K di massa M Quindi La particella Di massa M E Carica Meno Q Oscilla E con buona approssimazione Con buona Approx Approssimazione che può migliorare Più il rendente piccolo di X Prendendo X Prendendo X sufficientemente piccolo Quindi per X Molto piccolo rispetto al raggio Dimostrate che Se mettete qui Una particella Di massa M Di carica Qui si intende Di carica Meno Q Di massa M Oscillerà Avanti e dietro E si comporterà Molto simile A un oscillatore Armonico Con buona approssimazione Come oscillatore Armonico E quindi Ovviamente La quinta domanda Oscilla E periodo E periodo Con quale periodo Con quale periodo Con quale periodo Oscilla Buon lavoro E' una classica domanda Orale E' anche stato dato A uno scritto Diverse persone L'hanno scritto fare Meditate 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 Altro esercizio Che voglio che sappiate fare Pensavate che vi davo la soluzione Voi non avete voluto Ascoltare la musica di Bach Io vi pulisco Sto scherzando Questo è un bastone Di lunghezza L Non c'è il rischio Di confondersi Né con il momento Né con il momento La quantità di moto Né con la coefficiente D'autostituzionale Immaginate Che abbia Carica Q E la carica E' spalmata In maniera uniforme Quindi Avete una densità Di carica lineare Che è costante Nei vostri appunti Voglio che sia chiaro Questo è un anello Anello con 2n O con 1 E che questo E' uguale a una Carica diviso una lunghezza Ok Questa è una carica diviso una lunghezza Che caldo che ho Troppo Diciamola su di scherzo Troppo Immaginate che la carica sia positiva E considerate un punto qua Che è sull'asse del bastone Punto Sull'asse Bastone carico Non bastone carico Questo è un punto sull'asse Ok? Io voglio qui Il calcolo esplicito Del potenziale elettrostatico E' elettrostatico E' elettrostatico Calcolo Calcolo Diretto Poi vi spiego Tra un attimo Diretto Del campo Elettrico Voglio La verifica Che il campo elettrico In questo punto qua Questo chiamiamolo l'asse x Ok? Come potete forse intuire Il campo elettrico Sarà rivolto Nel lungo La direzione x Se il punto è proprio Sull'asse E' chiaro che Se il punto fosse fuori asse Il campo elettrico Non sarebbe puramente In direzione x Invece Per tutti che sono sull'asse Il campo elettrico E' di là Eh? Quindi il campo elettrico Sarà sempre Nella direzione delle asse Ma dipenderà Dalla distanza x Quindi a ben guardare Il campo elettrico Il campo Che potrebbe Dipendere Da tutte le coordinate Cartesiane Rettangolari In realtà Dipende solo Da x E avrà Addirittura Direzione x La sua Verso Sarà la direzione x E la dipendenza Dipende solo Da x Dipendenza del modulo Dipende solo E voglio che Verificate Non questo Che Nota bene Questo è nota bene È una È una Punta che faccio Verifica che Il campo elettrico Nel punto di x Cioè Questa Dipendenza Del campo elettrico Dei punti sull'asse Dalla distanza x Dal bastone Ah Dobbiamo mettere L'origine Dove mettiamo L'origine Cos'è x? Chiamiamolo x questo Che so Qual è una scelta naturale? Qua x uguale a 0 O x uguale a 0 qua? Mettiamolo qua x uguale a 0 Ok? Quindi questo punto qui Ha una distanza x Questo sta al posto x Questo estremo Ha la distanza L D'accordo? Quindi ho messo Per scelta mia In questo momento Di posizionare x uguale a 0 Alla D'accordo? Voglio che voi Verifichate Che La dipendenza x Dal campo elettrico Da x Sia uguale a meno La derivata Del potenziale Rispetto a x Perchè questo potenziale qua Sarà una funzione Solo da x Voglio che Verificate Che se prendete Questo che avete scritto Nella 1 E la derivate E cambiate il segno E ottenete quello Che avete calcolato Esplicitamente qua Va bene? E dopo ti do Altri esercizi Non sono difficili Questi qua Per esempio Potete immaginare Che il potenziale In questo punto qua E la somma Com'è che sapete? Sapete un sacco di cose Poiché voi Siete consapevoli Saperle è un altro discorso Che è uguale A un opportuno integrale Non vi pare? Giusto? Quindi Ecco una quantità di carica Qual è la sua distanza? Ecco qua Ecco l'altra quantità di carica Qual è la sua distanza? Questa Qual è la quantità di carica? Se ci pensate un attimo Questo che è dall'altra parte Se ci fermate a pensare Tutti i contributi infinitesimi Sull'anello Hanno tutti la stessa distanza Dal punto Ok? Perché in realtà Vi sto facendo un esercizio semplice Non sono un sabico Darvi esercizi complicati Vi do esercizi semplici Vi chiedo di calcolare il campo elettrico Su un'asse Quindi In realtà Questa distanza Ovviamente Se questo è x E questo è r Questa distanza Cos'è? Questa distanza qua È la radice x4 più r4 Tutti gli elementi di carica Hanno la stessa distanza Quindi in realtà Questo conto che Concentualmente Questo conto che Dovete concettualmente Fare Si riduce A fare 1 su 4 Pi greco Epsilon 0 La carica q Diviso Era difficile? No! Puttanata! Perché? Perché Tutte le cariche Hanno la stessa distanza E' lo stesso valore Quindi se volete La distanza Esce fuori E quindi 1 sulla distanza E rimane Cioè sto facendo Questo passaggio qua Questo qua Diventa Vabbè 1 su 4 Capite come mai Quando un fisico Anche voi Si stufa Molto rapidamente Usare il sistema Internazionale No? Perché continuamente Scrivere Vedete Quindi Hanno tutti La stessa distanza La distanza comune Che è questa La distanza comune Quindi la r per tutti i punti E' la radice quadrata Di r quadro Mi si parla L'ho scritta Questa esce dall'integrale No? Quindi avete 1 su radice Di r quadro Più x quadro E cosa rimane? Rimane Rimane L'integrale della carica L'integrale della carica Come cos'è? Q grande Quindi vedete che Scrivete questo Quasi senza battere il ciglio Se avete studiato Se uno non ha studiato E a questo punto Dice Ah A guardare bene Questo potenziale Per i punti Sull'asse x Dipende solo da x E quindi Il campo elettrico In questo punto Questo è la cosa più semplice Perché pensateci Un attimo Per simmetria Ecco che vi sto facendo L'esercizio Non volevo farlo Non volevo farlo Visto di lato Questo è l'asse Questo è l'anello Ok? Per ogni carica Che è qui Che creerà In questo punto matematico Un campo elettrico Per dire qua C'è un dirimpettaio Che crea un campo elettrico In questa direzione Questa distanza è uguale Questa quindi I moduli sono uguali Quindi la somma Di due dirimpettaio È un campo elettrico Che è lungo l'asse Quindi già capite Che il campo elettrico La direzione Perché voi dovete Calcolare il campo elettrico Che è un vettore Quindi avete bisogno Di sapere La direzione E il modulo La direzione È una tutela agile E il modulo Il modulo sarà E qua dovete Sovronoscere Come fare le derivate Perché dovete Saper derivare Questa funzione Che è solo Funzione di x Fate la due Fate la derivata Poi ottenete L'espressione E ovviamente La domanda 3 È stupida Una volta che avete Il campo elettrico L'ho moltiplicato E quello vi da La direzione di F Ovviamente La direzione di E Cambiate il segno Perché se il campo elettrico In questo punto Il campo elettrico È per di qua Questo è il campo elettrico La direzione Della forza di Lorentz È in direzione opposta Quindi la direzione Della forza di Lorentz E per di qua Quindi la carica Negativa Sarà attratta Dall'anello D'accordo? Quindi la domanda 3 Stupiraggine Ovviamente È chiaro Che questo qui È più o meno difficile A seconda che voi Sappiamo fare le derivate Questa è una Stupiraggine La 4 Prendete l'espressione Della forza di Lorentz O del campo elettrico La stessa cosa E usate l'approssimazione Che x sia molto più rispetto a r Usate l'espansione binomiale Non so se la conoscete E una volta che avete la forza Approssimata La guardate E dite Ma sì È una forza proporzionale Alla distanza E quando avete una forza Proporzionale Alla distanza Dovete pensare Alla legge di Hooke Cos'è la legge di Hooke? F uguale meno Kx Quindi Se avete una forza Che c'è il segno meno Perché è attrattivo E riproporzionale La distanza Dovete pensare Alla molla Ecco il punto Il gioco è fatto La particella è attratta Però Acquista velocità Parte da fermo Acquista velocità Arriva nella posizione E' uguale a zero Ove la forza è zero Come potete intuire Non vi pare? Qua La forza netta è zero Perché è attratta da questo E' attratta da quella E' attratta da tutta la direzione Quindi la forza qua è zero Ma lui arriva in velocità E siccome ha inerzia Passa oltre E si trova sul lato sinistro E trovandosi sul lato sinistro La forza sarà in questa direzione E quindi perderà energia di movimento Si ferma per un istante Però c'è una forza che lo richiama E se x è molto più rispetto a r E' una buona approssimazione A uno scelto armonico E quindi con la legge di Hooke A vista Capite qual è Omega zero quadro E quindi qual è il periodo Ti vediamo Allora 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 Non Grazie a tutti